Taglio del nastro oggi nel sottopasso della Valenari Bis. La cerimonia è servita per consegnare ufficialmente al quartiere di Favaro la strada che servirà ad avvicinare il grande centro abitato a Mestre. Sono stati necessari 490 giorni, meno di due anni, per costruire 3 km di strada e quasi 800 metri di sottopassi. Dà la possibilità al quartiere di Favaro di essere integrato a pieno titolo nella città di Mestre. Viene realizzato un'ulteriore bretella che è già stata realizzata, quindi si completano questo disegno iniziato qualche anno fa in splendida collaborazione tra Comune di Venezia e Regione Veneto e questi sono i risultati. Decisamente all'avanguardia la concezione del sottopasso di via Sandonà che è stato dotato di impianto di sollevamento a acque meteoriche, luci a led ed è stato rivestito con leva blocco fonoassorbente. Ora partiranno i lavori del secondo lotto che collegherà la strada all'aula bunker a via Bissuola, via Pertini, via Le Vespucci e il ponte sul Nosellino. Manca sempre con il contributo della Regione e il Comune che lo fa, manca un altro pezzo ma non interesserà più le grandi viabilità di scorrimento.